Musica Cari amici benvenuti in questa nuova puntata di Minecraft Ed eccoci tornati su Master Sergeant Yeeey Ovvero la seconda parte di Sergeant Simulator in Minecraft Siamo contentissimi che la prima parte vi sia piaciuta e ci abbiate chiesto di continuare Sappiate però che ci si è un pochino buggata la mappa Infatti sulla destra noterete che abbiamo zero fail Perché siamo dovuti tornare fin qua e non ne ho fatto neanche uno Però naturalmente nel punteggio finale conteggeremo anche quei 5 fail della volta scorsa E vedremo quanti altri pazienti moriranno sotto le mie mani Comunque sia siamo pronti per curare anche questo Who you rather man? Vuoi morire o vuoi essere curato da me? Per me vuole morire in pace senza rischi Glielo consiglio anch'io Benissimo diamogli le bende così almeno anzi ancora meglio Io gli tapperei gli occhi E beh Così non vede che sono in occhio ugo e non muore di paura Sai che il gesto è già morto di paura Eh trovi Sì sì Perché ha visto Perché facesse fettare la stagione No Eldrino E' morto Neanche io mi farei curare da me stesso Io me lo dico Ti salto sulla maglietta Che tanto È più piano però la prossima volta che salto Coltellino Ma sì rimuoviamo le coste della gente Chi se ne frega delle coste Che posto è? È gigantesco Cos'è? Che zona siamo? Che c'è un mare di lava? Allora potrebbe essere il cervello Però essendo un cervello maschile Ci si aspetta che sia vuoto Sì Quindi non essendo vuoto Probabilmente non è il cervello Si divide in tre parti Ma che razza di posto? Aspetta aspetta Il tempo passa solamente due minuti Due minuti Accidenti Ne devi 140 secondi prima Eh ho capito Non ero preoccupato Non si capisce niente Non ha senso che non ci sia niente in questa zona Ah eccolo qua Ah ma che biviraggine col mezzo blocco Possibile che devi mettere i blocchi nascosti Ti detesto tantissimo Va bene D'accordo Stai andando abbastanza bene Non è che mettere la lava Sia proprio una gentilezza anche quella Se ci pensi bene Ce ne ha uno solo Ci sta Può darsi Magari voi ne avete visto uno Non ho visto No non è c'è Ho sbagliato Paura Proviamo di qua Vedersi qualcosa di utile Che sono sti cosi Da lanciuncini qui Guarda che bello Posso utilizzare questo tendine Per farci la danza davanti Che bello Eh la danza dei tendine La pull dance L'ho trovato per sbaglio tra l'altro Comunque sono molto meglio gli ossi rotti Perché non dovrebbero essere tutti ossi rotti Sì anche nel bulbo culare Ossi rotti ovunque Va bene Basta Non ce ne sono altri Sto andando malissimo Ma non ti senti un po' come in quei cartoni animati Desplorando il corpo umano Sì Quando vai lì a girare con le birce Che sono gli omini che salvano la gente dalle infezioni Ma che birce ti salvano? Siete le birce al posto delle globuli bianche Io sono un chirurgo miniaturizzato Che va a fare le operazioni in cui le persone muoiono I giganti E stavano meglio prima Oppure posso essere una persona normale che va a salvare i giganti È anche quello interessante Volessi essere un hobbit che va a salvare i troll per esempio Volendo Prima che si pietrifichi Oh che bruciare la lava Oh che bruciare la lava Deve aspettare l'ultimo film del studio delle anelli per bruciare la lava Non questo Secondo alcuni questi potrebbero essere i succhi gastrici E potrebbe darsi Perché sono troppo acidi E quindi Chi li ha si troverebbe benissimo Perché anche lei è acidissima Ma Ti discorsi sono Non c'è nulla E vanti sta L'ho trovato L'ho trovato Che Probabilmente gli ultimi tre Sono tutti qua Abbiamo trovato l'organo E quindi gli ultimi E basta Perché Te lo fai bastare No dai dai 30 secondi No Me ne sono persi No Me ne sono persi Veramente Io ho trovato uno in ogni zona Non basta Uno in ogni zona Perché dovrebbe esserci di più di uno in ogni zona Comunque se questi qui sono veramente i succhi gastrici Consiglio a questa persona di farsi una cura antiacido Perché mi sembra che ne produca veramente troppo Eccole uno Eccole uno Aspetta no no 30 secondi Ce n'è un altro Dove Dove l'altro Provo da questo lato a caso No senti Non ce la farò mai Io senti a destra Sì a destra dove sono nato No E sono ancora nel mio fasciatoio Dovevo andare Ah che scherzo No 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 Il tempo sta già passando Il tempo sta già passando Ma dai Neanche da morto Non ci credo L'avevo trovato Ti sei morto davanti Ma dove era? Aspetta Di là E ho andato dritto No a destra mi ha detto di no perché c'è rinato Ma no Se sono appena rinato vuol dire che era dietro dove sono nato E ho andato tipo di qua Allora non ti capisco Non quelle cose tu rifogiscono Smettete di orientarti Ho trovato l'ultimo Accidenti Certo che io riesco a fare dei fail atroci Dove era l'altro? E un osso non lo ricordo Possibile Era un mezzo osso C'era il mezzo blocchettino anche Possibile che io addirittura Potrei aver detto No non l'ho trovato Acciderbulina Ma io ci muoio davanti Mi bastavano tre secondi in più E ce la facevo Non è che c'è molta alternativa È cattivo sto paziente Possibile che non mi dia qualche secondo in più Per ucciderlo meglio Ma non ci si fosse davvero così Che un medico se non si sbriga Operare il paziente Poi un po' il paziente Gli esce una specie di mosso dalla pancia Che fa E lo mangia E uccide il dottore Esatto Sì tipo i tentacoli dei ghoul Quelli di Tokyo Ghoul Va bene Cerchiamo di prendere Manca solamente l'organo Va bene Ora che avevo visto dove erano tutti È andata abbastanza bene Quindi abbiamo completato anche questo livello Ma mi sento sicuro Muoio nella lava come Un bello Ma no Ma stai zitto ogni tanto che ti conviene Che forti sfiga Ho sbattuto la testa con il cordone umbilicale Hai duro sto cordone umbilicale Dici Mi hai intornato Sto zitto Basta Ok Ha detto Vado piano Va piano Il problema È questo Quando uno è sicuro Di dire Ormai ce la faccio Se la prende Con comodo Cioè Va con un po' sicuro E a volte È una pessima idea Devo andare di qua Ora lo rompo 44 gatti Mancano 44 gatti E Ce l'abbiamo Fatta Nice Nice job Se lo dici tu Nice Proprio nice Va bene D'accordo Speriamo che non si sia di nuovo buggato come un'altra volta E Goldblad Ok Andiamo avanti Ho fatto un fail Quindi in tutto siamo a 6 Appendicite credo Buon uomo Buon uomo Buon uomo salve Ora vengo io Poveretto Se cadevo Vi immaginate Se cade Fail Cadevo giù Non so più come tornare No non me la rischio Curalo Curalo Allora Ma come è che questa gente in sala operatoria C'era tutta un po' spezzettata Come lo metto lì Io però mi chiedo Può essere che se una persona Gli fa male l'appendice Deve anche Scogliarsi la faccia Dei Dei tagli in giro Probabilmente È caduto dal motorino No È la mia ambulanza Guidavo io insieme al casuario Che mi aiuta in queste operazioni Il paziente stava bene prima Poi però Però quindi probabilmente Lui aveva solamente Il danno interno Ma mentre lo portavamo qui L'abbiamo sballottato un po' troppo Va bene Cento Oh mamma Andiamo indietro Sono anche i pozzi di lava adesso Sembra una zona bruttissima Dovemo guardare bene Non è che ti sembra Credo che lo sia Dobbiamo guardare benissimo Potrebbe essere veramente ovunque Ovunque No Qui c'è anche un minimo parkour Paurissima Paurissima Eccolo Allora abbiamo il primo Quindi era indietro nell'angolo Ok Quindi ricordiamoci Perché non ce la farò mai La prima sicuro Va bene Sali Perché devo fare Sti postaggi assurdi Perché poi ci sono anche dei buchi Ma perché normalmente I chirurghi possono operare normalmente Con gli strumenti Da lontano Invece te devi entrarci Dentro la gente Io ci entro dentro Poi magari qui dentro No Ci ho sperato Ci ho sperato tantissimo Ho anche paura di cadere Poi mentre faccio questo parkour Ti immagini se i punti da eliminare Cambiassero di locazione ogni volta Eh Sarebbe impossibile Ho già perso il primo minuto E ne ho trovato uno solo Ovviamente C'è tutto una specie di sistema Di prova e riprova Immagino E di sadismo anche Perché è una cattiveria folle Non li sto trovando Ecco ho trovato l'organo Bene Ho trovato l'appendice Ma sai che non ti basta quello Devo anche toglierti l'infezione Al massimo diventerai uno zombie Ma il massimo è un pigiatino antibiotico Perché non deve dare Non sarà proprio negli angolini Maximi Perché non lo troverai mai Cioè se fosse uno di quelli Non credo No dai Sarebbe veramente troppo Quindi mi aspetto Che non sia così cattivo Io ho trovato E sono due di queste cose Sono due E non so neanche che stato abbia fatto Non ci capisco nulla Ho cercato di fare il giro in tondo Quindi giro giro tondo Gira giro tondo Il paziente è morto E adesso non ti il chirurgo No E te l'ho detto Dai Te l'ho detto Ponte sfunto Non usare quell'arnese lì per operare Quella la flema E vabbè Pazienza Dove vado Che poi ti stai usando lo scalpello per operare Ma un bistro non sarebbe più efficace Ah no Qua era dove c'era l'organo Quindi non è esattamente la zona Dove dovevo andare io Perché di qua sono morto Poco fa Va bene Non li sto trovando nulla E' terribile Ma stai facendo la stessa strada di prima L'hai cambiata Perché non ci sto capendo assolutamente nulla Neanch'io Ci sto capendo assolutamente più niente Qui dove sono morto prima Secondo me Quindi magari c'è un posto No Non c'è niente Buon uomo Buon uomo mi scusi Ho chiaramente verso Capiamoci Perché Manca ormai meno di un minuto No trovate due Il problema Che almeno prima Eccolo Eccolo Guarda E' mezzo blocco anche quello No togli quello sotto Ditemi come faccio A ricordarmi Dov'è Non me lo ricorderò mai Allora c'è E' l'unico che c'ha un osso E' l'unico che c'ha un osso Lo l'ho messo storto E va bene Devo ricordarmi Eh ho capito Ma se sono in mezzo i blocchetti Se sono in mezzo i blocchettini Come penso che posso fare Blocchettini bifidini Eh guarda Devo guardare un pochino meglio le pareti O anche in alto Magari in alto Non ho guardato molto Devo ammetterlo Quindi 20 secondi Beh questo Ah è l'unico L'unico che c'ha trovato Ah ok Quindi devo andare subito indietro Ed è lì che ci sono D'accordo Ora dobbiamo capire Che tre sappiamo dove sono E questo è positivo Ma dovete aiutarci Per trovare gli altri Quindi Dal futuro Quando vedrete questo video Parlatemi E ditemi dove sono Perché non li sto trovando Se due sono da quel lato Magari gli altri due Sono più da questo Ah 2 secondi No lo sento bene Perché i succhi plastici Li hanno sciolti Quindi non esistono più Va bene Mi lancio Solito per capire Se ho capito Dove sono quelli lì Stavo già sbagliando Ok deve essere di qua Se non mi sbaglio Almeno trovo subito questi E mi tolgo il primo problema Ma almeno ci possono Tipo delle redstone Qualcosa Lasciarsi alle spalle Tipo pollicino Va bene Questo Pigliano Pigliano E il primo Mi sono ricordato Il secondo Se non mi sbaglio Era di qua E fin qua Almeno ce la dovrei fare Benissimo Quindi i primi due Li trovo In fretta e furia Devo assolutamente capire Dove potrebbero essere Gli altri E di qua L'appendice Anche avevi trovato L'appendice No Pazienza 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 D'accordo Vediamo Magari sono anche Delle zone centrali Mettiamo caso Che non gli è venuto In mente Di metterli Necessariamente Negli angolini Magari anche Una di queste zone qua Secondo me Ti li ha messi Nei posti più lontani E irraggiungibili Che poteva In modo da farti diventare Passo Di farti completare Il livello Al secondo Mi immagino Che possono mettere Le cose Proprio distanti L'una dall'altra Quindi Se laggiungi Doveva essere L'organo Quindi mi aspetto Che non ci sia L'altro proprio appiccicato La prossima volta Che scendi qua sotto Portati un monopattino Volante Che è un overboard O qualcosa di simile Perché no Mi ci porto Norvi Ci metto le ruote Norvi a ruote Un gatto con le ruote Sarà bellissimo Dove dovrebbe essere Eccolo 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 Trovato Allora abbiamo trovato Anche questo Che è più o meno Qui d'accordo Ti manca l'appendice No L'appendice è un altro L'appendice so dov'è Ma dice Tasche completate 8 di 10 E mancano Un'altra ancora Incredibile Chi la scopre Che da 8 Poi vai a 10 Ci mancano 2 Non è per quello Perché alcuni sono doppi Quindi ho pensato Magari anche l'appendice Ma poi ci ho pensato meglio E ho detto No non è vero Chi la finge di aver pensato meglio Alle cose Quando la taglia L'ha suggerito qualcuno Sì no Mi l'ha suggerito Eh lì Lo vedi di quelle ruote Come va Mi manca l'ultimo 80 secondi Quindi teoricamente Potrei farcela Potrei farcela Quando lo farai No perché Non portare sfortuna Lì c'è Non portare sfortuna Sono realista Lì c'è quello Quindi se lì c'è quello L'organo Può darsi che non sia proprio Vicino appiccicato all'organo Comunque non lo togliamo Via lo stesso Dobbiamo capire Se l'ultimo Nelle vicinanze Magari è nascosto Però per un blocco solo Fa abbastanza rabbia Eh si Fa rabbia Magari potrebbe essere Un altro mezzo blocco Nascosto da qualche parte Un piccolissimo Lì 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 È vero È vero Brava È incredibile Dopo solo un fail Incredibile E quindi Siamo riusciti A completare Anche questo Bravissimo Livello 7 La scorsa volta Avevo detto che ce ne mancavano Due Mi sono confuso Ce ne mancavano Tre Questo è l'ultimo Degli ultimi È un danno al cervello Subito questo disgraziato Ah bene bene Se li fanno morire in pace Il cervello Che poi sembra un labirinto Dall'esterno Chiama un sacerdote Che pensa Sei l'unica persona Di cui ha bisogno Questo qui ormai Meglio che essere curato Da me di sicuro Eh sì sì Va bene Ora ti chiudo Anche le cose Sulla faccia Vedi sì Direttamente le larghisci Così muore soffocato Che è meglio Spaccalo Ma no Quasi C'è il cervello C'è il cervello Il cervello Invece no Questo tipo ha il cervello Al posto del cuore Esatto Perché è una persona Molto intelligente E gli sta molto a cuore Un po' emotiva 160 secondi Va bene Sembra più piccola C'è un osso rotto laggiù Evviva C'è un osso rotto laggiù Sì l'ho visto L'osso rosso Dai Non ha senso Perché non sa Salta male stavolta Ce l'hai il salto Sì Salta male Salto male Ok guardiamo bene Fin da subito Questa zona Sembra bella Tranquilla Va bene Eccone uno Eccone uno L'ho visto Meno male Guarda Mezzo blocco anche quello Guarda che No Non con la medicina Va bene Mi aspetto che essendo l'ultimo Sarà più facile Degli altri Sicuro Bene Ma che siamo già due O è solo un passaggio No è solo un passaggio Adesso un passaggio Che mi porta un pellino più avanti Un corridoietto Che non finisce più E niente E addio Si biforca Biforca C'è anche le scale Come le scale Come le scale Come le scale Puoi salirle C'è l'osso di mezzo No posso salirle No Non mi piace Anche di là Non mi piace Come cosa Ma questo che c'è Il cervello con le lampe di scale Ma che resta di cervello visto Sapevo che mi aspettavo Una voce di labirinto Per il cervello Ma l'ho detto per dire Non dovete prendermi la lettera Si sembra scarinata La bella e la bestia Eccolo Queccato Iveria Guarda lì Un quarto di blocco 90 secondi Tre cose da poi Non lo so neanche io Perché sto guardando Con una massa di attenzioni Che ho una paura Matta di morire in la lava Cioè Praticamente mi sta succedendo Stoi se dalle mani Quell'affare Tranquilla Appena muoio Me la dimentico Guarda Ti lascio Ti lascio Di residui del cervello Ma sì Al massimo Magari ti salvi Ma ogni tanto Ti trovi Una siringa Che ti spunta Da un orecchio Attenzione Sbrigati 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 70 secondi Non devo morire Perché l'ho fatto Anche col pavimento Basso Cioè il soffitto Basso Così non puoi Nessarti L'are In pace Che cavolo E qua Per tornare giù di sotto Nel caso fosse Dimenticato qualcosa Ma io credo Che forse devo fare Un super mega parkour No Per andare dove No Per andare dove Io proverò a salire Anche se immagino Che potrebbe esserci Qualcosa in basso Ma prima salgo Prima vado sto giù Non lo so Non credere almeno Vabbè proviamo a salire Se ne sono in grado D'accordo Guarda attentamente Nei lati Di questi filamenti Filamentosi Non vedo nulla Non vedo nulla Quanti secondi 40 Quanto vorrei eliminare Dai su spacchetti Non puoi neanche sapere Quanto Non c'è nulla No non li vedo Eccone uno Eccone uno Va bene Siamo a otto Dimmi che gli ultimi due Gli ultimi E c'è il cervello C'è il cervello Sì ho capito Ma otto più uno Fa nove Intendevo che alcuni Sono doppi Chi reintende Quello che le pare Ditevi che ha ragione Che è una donnina No Ben di sta Punizione per queste Fesserie maschiliste No C'è giusto E già farò mai Eh vabbè Se sbaglio Anche così Bene Devo solamente sperare Che gli ultimi due Siano in alto Stai aspettando di morire In pace Si muoio Posso morire in pace Non è che un povero chirurgo Al fallimento Della sua opera Buona Vuole decidere Di sacrificare Se stesso Per un bene migliore Cioè quello del paziente No il mio Che resta lì Col cervello aperto in due E nessuno lo ricuce No nel senso che magari Meglio se cambio lavoro Va da fare il pasticcere Di ciabatte Il pasticcere di ciabatte Buono Cioè fai le torte Che sono a forma di ciabatta O le ciabatte Che se le mangi Sono buone Eh faccio le ciabatte Che se le mangi Ti viene la gastrite Così poi posso dopo In un altro mondo Diventare un chirurgo E curare la gente Che viene da me Con la gastrite Causata da te Però non voglio andare dentro io Di nuovo A essere mangiato Le succhi gatti Andaci puffi dentro Sono una dimensione perfetta Per queste cose Io riprovo Sperando Con tutto me stesso E con tutta La mia bile Dello stomaco Che in realtà Gli ultimi due Siano entrambi sopra Perché Non lo so Ma è una speranza E voglio mantenerla Fino all'ultimo secondo Dai Ne abbiamo tre Non devo cadere C'è il cervello alla fine La cattiveria più cattiva È proprio il fatto Che In cui cadrai E morirai E bruciarai C'è anche una questione Proprio di parkour Che mi sembra Eccolo Eccolo Quindi l'ultimo cervello Sicuramente sarà in alto Quindi può darsene Sì Può darsi che abbia ragione 100 secondi Per far Devo stare attento Anche a non saltare Non è che devo stare attento Anche a non saltare Sì Cervello Cervello Non ce l'abbiamo Fatta Con un solo fail Per livello Ce l'abbiamo fatta Con tre fail stavolta E cinque l'altra volta Più che altro Abbiamo fatto i fail Solamente in un livello Il mio totale Su sette livelli È otto fail Dove in poi Se volete farvi curare Da me Vi consiglio Di bere Un veleno Prima Una ciputa per esempio Vi ringraziamo di cuore Presentati con noi Speriamo che Di cuore Si so per restare in tema Master Sargeron Vi sia piaciuto Fateci sapere nei commenti Che mappa Ci consigliate di fare La prossima volta E alla prossima Con Nate and Love Ciao Ciao